Il Castelnuovo Romano esordisce nel campionato di Serie D, prima volta in assoluto per i nero-verdi di Mr. Guido Di Fabio, con una vittoria esterna per 1-0 sul terreno dell'atletico Terme-Fiuggi, gara caratterizzata dal forte vento, tanta pioggia e tanto freddo. L'inizio è per i padroni di casa, al nono basilico dall'interno dell'area, ci prova tiro prontamente ribattuto da un difensore, al diciassettesimo ancora basilico per il Fiuggi, diagonale dall'interno dell'area di rigore, questa volta fuori di poco. Al ventesimo, sempre per i padroni di casa, colpo di testa ravvicinato di Forgione, ma la palla ancora una volta esce di un soffio. Il Castelnuovo si fa vedere per la prima volta al ventiquattresimo Fagioli, lanciato in area da Emili, anticipato in angolo al momento del tiro e sugli sviluppi dello stesso corner il portiere Spadini cicca la presa, ma la sfera sfila sul fondo. Il Castelnuovo passa in vantaggio al trentaquattresimo De Giglio, lanciato in area, steso dal portiere che verrà ammonito. L'arbitro Zanotti designa il calcio di rigore, proteste del Fiuggi che chiedevano un fuorigioco, c'è stato un colpo di testa all'indietro di un difensore sul lancio per De Giglio, rigore confermato e Loviso lo realizza per lo 0-1 col quale si va anche a riposo. Il secondo tempo rinizia nel segno ancora del Fiuggi che le prova tutte per rientrare in partita. Al secondo punizione dal limite ancora di Basilico, ma la palla finisce alle stelle. Al sesto minuto è Mazzotti a provarci direttamente da calcio d'angolo, ma la sfera colpisce il palo esterno. Al nono minuto è la volta di Rizzitelli che avanza dalla tre quarti fino ai venti metri, palla al piede, diagonale dal diagonale che sfiora il palo. Il Castelnuovo si fa rivedere al quattordicesimo della ripresa, punizione dal lato corto di Di Ruocco. La palla è respinta da difesa, al volo dal limite ci prova Casimirri che fa la barba al palo. Diciassettesimo minuto ancora Castelnuovo, calcio d'angolo di Loviso, Emili devia nell'area piccola sul primo palo e la sfera attraversa tutto lo specchio della porta. Il Fiuggi ci riprova al ventiduesimo, calcio d'angolo respinta di Pugni di Natale e Papaserio al volo dal limite sfiora ancora una volta il palo. Venticinquesimo è Loviso a provarci su punizione per il Castelnuovo, punizione dalla lunghissima distanza al ventottesimo. Il Castelnuovo rimane in dieci per l'espulsione di San Severino per doppio giallo. Nel finale il Fiuggi si riversa in attacco e ci prova al trentacinquesimo con una conclusione dalla distanza di Mazzotti bloccata in tuffo da Natale. Mentre invece al trentanovesimo è la volta ancora di Basilico su cross di Turzo. Ma la palla sfiora il palo, non succederà più nulla fino al novantesimo. E quindi Castelnuovo che esordisce in Serie D con una vittoria per 1-0 sul terreno del Fiuggi.